ok amici eccoci qua a questo nuovo tutorial oggi andremo a vedere come si installa la JDK di Sun voi vi starete chiedendo perché vogliamo installare la JDK di Sun la risposta è abbastanza semplice perché pur usando App Inventor se noi volessimo caricare ad esempio le nostre applicazioni sul market Android abbiamo bisogno della JDK installata se volessimo per esempio avere degli emulatori diversi con delle risoluzioni diverse per provare le nostre applicazioni con App Inventor abbiamo ancora una volta bisogno della JDK visto che è gratuita e che occupa poi poche centinaia di megabyte sul nostro PC consiglio caldamente di installarla oggi andremo a vedere come si fa come al solito partiamo dal nostro browser e questa volta andremo a vedere l'Android SDK andiamo a vedere le istruzioni che dà Android Google sull'installazione dell'SDK allora la prima volta intanto cosa vuol dire SDK è software development kit praticamente sono i tool di sviluppo per sviluppare applicazioni per Android che non siano solamente quelle che noi creiamo con App Inventor ma proprio le applicazioni quelle in Java puro create magari con Eclipse allora la prima cosa bisogna controllare che abbiamo i system requirements come l'altra volta sono gli stessi più o meno come quelli che abbiamo visto per App Inventor quindi va bene Windows XP va bene Mac va bene Linux in questo caso in questo tutorial lo vedremo su un'installazione di Windows XP a 32 bit ok poi ci dice che serve la JDK 5 o 6 che fra poco andremo a installare nel nostro caso la 6 la JRE che era quella che avevamo installato l'altra volta per App Inventor in questo caso non è più sufficiente rimane necessaria per App Inventor ma non è sufficiente per il nostro scopo allora torniamo a install in the SDK quindi dice che in particolare potrebbe essere necessario installare la JDK se non ce l'abbiamo già io presuppongo che la JDK voi non l'abbiate ancora installata quindi ora andiamo alla pagina di Java che si aprirà a breve eccoci qua allora questa volta dobbiamo scaricare la JDK e non la JRE che avevamo già installato l'altra volta ad oggi il pacchetto che abbiamo è ancora la 6 update 24 clicco su download JDK devo scegliere la piattaforma quindi nel mio caso è una piattaforma Windows dare l'agree ai license agreement e dare continue sono 76.58 megabyte questo è il nome del file invio la richiesta e con Chrome inizia l'installazione ora io l'ho già installato quindi non c'è bisogno che aspettiamo possiamo cancellare questo download ed andare a vedere come procede l'installazione della JDK allora questo è un file di installazione un eseguibile classicissimo di Windows andiamo a lanciarlo eccoci qua i soliti warning e parte la preparazione dell'installazione il pacchetto è abbastanza grosso quindi ci metterà un po' di tempo ma noi non ci preoccupiamo di questo abbiamo il nostro classico wizard andiamo avanti possiamo lasciare di default tutte le opzioni che ci propone importante vedere dove andrà installato a noi va benissimo c programmi java JDK eccetera eccetera a questo punto parte l'installazione come vi ho detto ci metterà un bel po' di tempo io per non annoiarvi metto un attimo in pausa e ci rivediamo quando avrà finito l'installazione sul vostro pc ci metterà 2-3 minuti almeno una piccola precisazione vedrete durante l'installazione che lui installa anche la JRE la JRE che installa è locale per la JDK quindi comunque continuerà a servirci la JRE che avevamo installato la prima volta quando abbiamo installato diciamo l'ambiente di sviluppo per App Inventor ok finalmente ha finito l'installazione della JDK qua ci dice possiamo anche registrarci vedrete che fra poco ci manderà su una pagina di SAN per la registrazione del prodotto se volete fatela non è obbligatoria quindi noi a questo punto possiamo andare avanti eccola qui che mi apre questa pagina di registrazione vedete voi se farvi un account gratuito non costa niente magari scoprite delle belle cose ora dopo aver installato la JDK dobbiamo installare effettivamente l'SDK Starter Package per quel che riguarda Android non sarà completo come dice anche qua ma mi darà dei tool di base e poi ci sarà la possibilità di espandere le funzionalità dell'SDK di Android quindi andiamo a vedere l'SDK Download Page qui lo apriamo in un nuovo tab e vediamo cosa ci offre per Windows abbiamo l'installer l'exe visto che è quello raccomandato da loro scarichiamolo anche qui questo è un po' più piccolino sono 31 mega comunque io l'ho già scaricato in precedenza quindi fermo il download ed andiamo a prendere questo installer attualmente la revision 10 soliti warning proseguiamo ecco qua allora siamo alla pagina del wizard vado avanti qui mi dà un errore che la java JDK non è stata trovata non so se sia per il mio pc o per che cosa magari a voi non ve lo dà comunque ho visto che è un piccolo trucchetto magari un errore di questo pacchetto di installazione facendo un back e poi un next mi dice che l'ha trovato la JDK e quindi può proseguire nell'installazione anche questa volta andiamo a vedere la directory di installazione a me va benissimo lasciareci i programmi Android SDK e vado avanti mi crea i suoi shortcut questa fortunatamente è molto più veloce di quella di prima ecco qua sta scrivendo tutti i suoi file e ce l'abbiamo fatta abbiamo finito ora di lanciare l'SDK manager in questo preciso istante non ci interessa quello che ci interessa fare è settare il path per appunto i programmi che sono stati installati con la JDK allora la JDK sul nostro pc si troverà in C programmi java JDK è il numero della versione che magari quando farete questo tutorial sarà cambiato e i comandi più importanti sono dentro la directory bin ok allora cosa facciamo vi faccio vedere per esempio che se io da pannello da prompt adesso adesso in comando java si che è il compiler di java non lo trova perché perché qua dentro abbiamo java si dot exe ma non è nel path di window allora magari questo lo sapete fare già benissimo voi comunque io ve lo spiego prendiamo l'indirizzo lo copiamo tasto destro su risorse del computer proprietà andiamo in avanzate scusate e variabili d'ambiente ora noi qua su variabili di sistema troviamo questa voce path selezioniamo modifica andiamo all'ultima diciamo carattere che c'è aggiungiamo un punte virgola e poi incolliamo questo path ok ok e ancora ok ora se io riapro con cmd vedo che se do questa volta il comando java si mi dà correttamente l'help di questo comando java si quindi questo vuol dire che il path per la jdk l'abbiamo impostato ora vi consiglio di impostare allo stesso modo anche il path per l'android sdk allora dove lo troviamo sotto android android sdk tools vedremo qua che ci sono dei comandi che ci torneranno utili in futuro quindi stesso procedimento copiamo tasto destro su risorse del computer avanzate variabili d'ambiente path modifica vado alla fine punta e virgola e incollo il mio path degli android tools ok ok per provarlo diamo il comando zip align ecco qua funziona quindi vuol dire che il path anche per l'android sdk è stato impostato ora vi faccio vedere un attimo l'sdk manager che troviamo in c programmi android android sdk e questo qui è un eseguibile quindi basta fare un doppio clic anche qua funzionerà tutto se abbiamo installato correttamente la jdk lui scarica dal sito di google tutta una serie di app platform e documentazione per quello che riguarda ovviamente lo sviluppo su piattaforma android a questo punto noi faremo cancel perché ci basta controllare che come installed packages abbiamo gli android sdk tools in versione 10 e poi in un altro tutorial vedremo come nei virtual device possiamo crearci degli emulatori per testare le nostre applicazioni facciamo con app inventor su risoluzioni diverse piuttosto che versioni diverse di android quindi non so froyo gingerbread eccetera eccetera questo lo vedremo in un secondo momento vi ho fatto lanciare questo per controllare che comunque funzioni correttamente l'sdk manager ora come ultima cosa diciamo un'ulteriore installazione semplice che vogliamo fare è quella di installare gli apk tools cosa sono questi apk tools praticamente è un piccolo programmino sempre fatto per android ovviamente che ci permette di scompattare i file apk che sono diciamo si potrebbe dire l'equivalente dello zip nel mondo android ed estrarre tutto quello che c'è dentro perché facciamo questo questo ci tornerà utilissimo il giorno che vorremo pubblicare le nostre applicazioni fatte con app inventor sul market android infatti come avrete probabilmente visto se provate a caricare una apk così come viene fuori se viene scaricato da app inventor vi da errore e non può essere caricato visto che l'installazione apk tools non è immediatissima la vediamo al volo anche qua dice che come requirements serve la jri16 che ce l'abbiamo questo lo vediamo dopo anche il discorso del path un trucchetto che non so se mi può piacere sono da installare i primi due file apk install windows e apk tools anche questi io li ho già installati prima quindi andiamo a vederli qua eccoli qua apk install windows questi sono dei file bz2 se avete 7zip che vi consiglio ad installare riesce a scompattarli senza problemi quindi dentro il bz2 c'è un tar ancora doppio clic questi sono i file che ci interessano visto che come vi dicevo prima ci interessa poi utilizzarli quando andremo a modificare il nostro apk per caricarlo nel market io vi consiglio di estrarre questo apk tool nella directory di java perché lo facciamo perché avevamo già impostato il qui lo facciamo